Nata nella selva di Boscopiano, bonificata da bandite e pestilenza dalla contessa Vittoria Colonna, che si prese poi cura di farla crescere e sviluppare, la città, anagraficamente più giovane della provincia e blea, compie 406 anni. Si dice sempre che sono ben portati e non potrebbe essere diversamente se si guarda alla strada fatta e ai risultati conseguiti dalla sua laboriosa comunità, formata alla radice di una cultura contadina che ne ha contraddistinto il cammino. Da prima capofila nel settore della viticultura, il borgo Ipparino si avvivì allargato nella sua dimensione strutturale e organica, grandi presupposti per quella che oggi è la vera economia della città, ossia l'ortofrutticoltura, modello di sviluppo anche per altri centri siciliani. Naturalmente il benessere ha portato anche il rovescio della medaglia, col grave fenomeno dell'estorsione dello spazio di sostanze stupefacenti, contrastati giornalmente dalle forze dell'ordine in una lotta senza quartiere. Oggi la città ha però tutti gli antivirus per debellare questo malessere e quest'anno tra l'altro i festeggiamenti per l'anniversario della fondazione sono inserite all'interno della settimana delle culture e comprendono la Santa Messa presso la Basilica di San Giovanni Battista, oltre ad alcune iniziative collaterali di ampio respiro che non mancano di attirare la curiosità e la partecipazione dei vittoriesi.